A un anno dall'insediamento dell'amministrazione di centrodestra che guida la regione, il presidente Francesco Rocca ha fatto il punto sulla situazione e ha annunciato anche alcune novità a partire dal nuovo cruscotto sanitario, ovvero il software che consentirà di monitorare in tempo reale la disponibilità di posti letto anche nei reparti di emergenza e urgenza, sia negli ospedali pubblici sia nelle strutture private accreditate. Rocca ha indicato tra gli obiettivi più importanti, messi a segno da quando si è insediato, la nuova rete ospedaliera che entro 18 mesi porterà al 3 per 1000 i posti letto su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda i tempi di attesa, fra le questioni più annose e complesse, Rocca assicura che entro il 2024 si dovrebbero vedere i primi benefici, rivendica di non avere rinnovato contratto a 27 aziende sanitarie private che si sono rifiutate ad aggiornare le agende per mettere a disposizione del Recoup. Si stanno studiando le liste di ogni azienda ospedaliera, dice, per capire come distribuire le risorse e colmare il gap entro l'anno. Per il giubileo sono inoltre stati stanziati i 155 milioni per il rinnovo dei pronto soccorso, in particolare il Santo Spirito, con nuove tecnologie e personale che parli le lingue per poter offrire un adeguato livello d'assistenza ai pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Un accenno Rocca lo ha fatto anche sul nuovo piano regionale dei rifiuti. Entro l'estate approderà in consiglio con l'individuazione di punti di raccolta in tutte le province.